E guarda in questi casi è necessario prendere visione delle moda natura e capire che tipo di problema tu abbia e come risolverlo Mandaci qualche fotografia su assistenza a chiocciola la cura dell'auto.it Tieni presente che quasi tutti i ticket tecnici li voglio vedere io, li vedo io, li risponderò io Mandami delle foto io